La richiesta centrale della preghiera sacerdotale di Gesù dedicata ai Suoi discepoli di tutti i tempi è quella della futura unità di quanti crederanno in Lui. Tale unità non è un prodotto mondano. Essa proviene esclusivamente dall'unità divina e arriva a noi dal Padre, mediante il Figlio e nello Spirito Santo. Gesù invoca un dono che proviene dal cielo e che ha il suo effetto, reale e percepibile sulla Terra. L'unità dei futuri discepoli, essendo unità con Gesù, che il Padre ha mandato nel mondo, è anche la fonte originaria dell'efficacia della missione cristiana nel mondo. Gesù prega perché i Suoi discepoli siano una cosa sola. La Chiesa diventa allora il luogo in cui continua la missione stessa di Cristo, condurre il mondo fuori dall'alienazione dell'uomo da Dio e da si stesso, fuori dal peccato, affinché ritorni ad essere il mondo di Dio. Anche noi allora nella nostra preghiera chiediamo a Dio che ci aiuti ad entrare in modo più pieno nel progetto che ha su ciascuno di noi. Chiediamogli di essere consacrati a Lui, di appartenerli sempre di più, per poter amare sempre di più gli altri, i vicini e i lontani. Grazie a tutti.